Partita da fuochi d'artificio, quella giocata ieri tra Palmese e Vibonese, valevole per la Coppa Italia di Serie D. 3-3 al termine dei tempi regolamentari, 7-5 per i Neroverdi, padroni di casa, che passano il turno dopo la lotteria dei calci di rigore. Una partita scoppiettante, nonostante i due allenatori, Salerno e Di Maria, per comprensibili motivi, abbiano fatto ampio ricorso alle seconde linee e a tanti under. Nei primi 45 minuti di gioco, supremazia della Palmese, che chiude la frazione in vantaggio per 1-0 grazie alla rete sul rigore di Angotti. Gli ospiti rosso-blu escono fuori alla distanza e ribaltano il punteggio in 24 minuti grazie ai gol di Garat e Paveglianiti. Poi la zona Cesarini che non ti aspetti. Prima il pareggio della Palmese, che fa 2-2 con Saturno. Poi il nuovo vantaggio al 41esimo per la Vibonese con Cosenza. Infine, quando già erano scaduti i minuti di recupero, la Palmese trova il 3-3 ancora con Saturno. Dal dischetto poi decisivo l'errore di Ruscio per la Vibonese e il gol di Misale per il 7-5 finale. Rigori fatali anche per il Reggio Calabria, sconfitto per 5-4 dallo Scordia. In questo caso però molte meno emozioni con i tempi regolamentari che si sono chiusi sullo 0-0. Ai rigori decisivo l'errore di Russo, che si fa respingere il tiro dal portiere, mentre subito dopo i padroni di casa passano il turno grazie alla trasformazione di Mazzamuto.